Professor Ceritelli, una tradizione che va avanti ormai da alcuni anni e che intende lanciare, come ogni anno, un messaggio universale. Quale sarà questo messaggio quest'anno? A Peace for Peace è la perfetta sinergia di performance musicali e coreutiche aventi per tema l'aspirazione alla pace. Torna in auge la ricerca del bene più prezioso per l'umanità che mai avremmo creduto di dover invocare a gran voce. Sappiamo bene che la pace si merita e si conquista e grazie alle esibizioni musicali e coreutiche dei nostri giovani studenti il pubblico potrà riflettere sulla possibilità di realizzare e di costruire la pace del domani. In questo spettacolo i nostri giovani talenti sono stati seguiti dal coordinamento della professoressa Di Paolo e ringraziamo per la preziosa collaborazione alla sceneggiatura Roberta Dell'Elice. Ricordiamo ingresso libero però con prenotazione? È un ingresso libero con prenotazione presso la villa comunale. Potrete segnare tutti i dettagli sulle pagine social del liceo scientifico Masci di Chieti e del giardino delle pubbliche letture presieduto dalla dottoressa Cinzia Di Vincenzo. Giulia tu sarai una delle protagoniste di questo evento spettacolo. Insomma sei pronta? Siete pronti? Sì siamo pronti ci stiamo preparando dalla fine della scuola questo è un progetto che nelle nostre menti già da tempo e con la guerra ancora di più perché questo è un progetto volto alla sensibilizzazione della beneficenza. Infatti il ricavato andrà a sostegno dell'associazione La Capanna di Betlemme di Luca Fortunato e dei fiori del bene Onlus di Francesca Candeloro. Spazieremo con diversi generi di musica infatti abbiamo pezzi di Gloria Gaynor ma anche un tributo a Lucio Dalla e ci sarà anche un corpo di ballo che ballerà al genere K-pop quindi molto più moderno. Giulia allora concludiamo così un invito ai tuoi coetanei ma anche agli adulti. Allora io vi invito veramente con tutto il cuore a partecipare a questo evento perché sarà un evento davvero meraviglioso e soprattutto per i miei coetanei potrete apprezzare il lavoro che ci abbiamo messo. È una cosa molto bella e interessante. Grazie. Grazie. Grazie a tutti.